Ok, il manga in questione è Bat Kid di Kazuo Inoue. Come al solito all'interno del pacchetto oltre a questo manga ci sono un paio di newsletter di Just Indie Comics. Vi ricordo che se cercate fumetti ancora in Italia, sicuramente Just Indie Comics è il sito giusto, vi starete giustamente chiedendo che cos'è Bat Kid. E dunque, è un manga serializzato tra il 1947 e il 1949 in Giappone ed è un manga che ovviamente precede tutta una serie di manga sportivi legati al baseball. Precede ovviamente Tetsuan Girl, precede ovviamente tutti i manga di Adachi ed è precedente anche a un altro manga storico importantissimo come La Stella dei Giants. Il volume è stato pubblicato nel 2021 da Bubbles in Publications ed è davvero un volume curatissimo tradotto da Ryan Holmberg, una celebrità per ciò che concerne il manga negli Stati Uniti.